ciao raga ciao in questo video sarà un montage dove farò vedere delle mie cecchinate molto belle secondo me più o meno le migliori ce ne sono altre molto più belle vero però in questa mappa sono stato ho fatto queste ricordo che la mappa l'ho inventata io perché c'è da metterlo e nulla dai ci vediamo questa è un'altra kill molto bella in volo gg ci sta veramente molto 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 intanto che vi lascio in sottofondo gameplay volevo dirvi ricordarvi di mettere un like iscriversi e iscrivetevi al canale e attivate la campanellina perché voi lo state vedendo un video di non lo so massimo cinque minuti penso io ci sto mettendo tantissimo a farlo già solo per prendere queste due queste due kill non so quanti erano ci ho messo tipo 20 minuti quindi ragazzi metterò molto un like di supporto per favore dai ci vediamo appena faccio kill bella anzi qua mi pare che una che bella ci stava quindi me la lascio così 250 si mi ricordavo bene nulla di che però già abbastanza figa tenevo a farci vedere un po questo bug non so se è stato un bug o veramente l'ho trovato guardate io ho sparato a caso e l'ho irritato ragazzi ve lo faccio rivedere con il volume così sentite il rumore che l'ho irritato no avete mi ha scordato il volume avete effettito il rumore dell'ho scinti tolto no infatti non ho capito neanche io ho sparato tipo al vuoto si ho colpito dai ragazzi bella guardate qua entra un hit bella boom ma non l'ho uccito molto molto un peccato veramente un peccato comunque se poi questo format vi piace io potrei riportarlo e magari fare tutte le mie kill di pompa o tutte le mie kill quindi ragazzo sostenetelo con one like con un like perché se ognuno di voi mette un like non vi costa nulla un like e un'iscrizione al canale quindi raga vero se vi piace molto questo format me lo scrivete qui sotto nei commenti questo è un'altra kill bella qua tenta il flick ma non ci riesco guardate dopo la kill bam 259 altra kill se vedete che io levo il volume è perché non voglio che si sentono le voci diciamo nel montage se volete sentire le voci quindi andate nel medio un ognuno con il cicchino in una box piena di trampolini questa kill è stata molto bella 250 in questo caso io me ne ero andato stavo al telefono ma ci sono ma che trick ti ho fatto ora sono tornato dal telefono infatti non parlavo ok si era un trick ma io voglio fare un'altra cosa venga questa clip durerà un po' tanto ma tengo a farvela vedere come vi ho detto non l'ho ucciso ma voglio farvi vedere anche le hit qui io trick ho tutto per provare il trick mi trovo davanti al nemico boom ma si lo uccidevo veramente avevo fatto la storia raga ma tenevo a farvi vedere questo questo è la kill più bella che ho mai fatto con il cecchino con il caccia guardate raga tutto un casino assurdo io continuo a saltare su le bounce per provare a fare un trick poi alla fine vado lui si mette lì io sparo 250 la kill più bella che ho mai fatto questo è una kill molto bella bam 250 e me voi mi ha cioè se ho visto bene l'ho colpito al corpo eppure ha fatto un 250 boh alza kill molto figa ma non bellissima cioè bella ma non bellissima c'è da metterlo e raga c'è da metterlo sono diventato sono diventato anche un hacker sentito ma tu sei un hacker ma lo so ma ti faccio bannare da mio zio la live è il pigame quindi ho diventato ora sono diventato un hacker e dopo cioè ora sono un hacker e dopo diventerò anche un altro personaggio mi pare che qui mi avrei 150 no non è da qui bella ah si è da qui blind bot le hatch scusi le hatch del settino 250 250 tutte queste vado nella mia slip io me ne vado un attimo perfetto ci sono è andata un attimo a vomitare guarda mi taglio guardate la kill è quello che dice ti dai ma tu sei tu sei ninja certo sono ninja ragazzi allora tu sei ninja e mi stai trollando col nome dal flu pazzo ok mi hai chiamato mi vedo sono ninja lo sapevo lo sapevo perché non parlo inglese però non vuoi parlare inglese no sono anche ninja I'm a ninja hyper ninja 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 infatti non mi vedi perché sono un ninja mi racconto è ninja mio dio no aspetta allora c'è tutti ragazzi ninja è troppo forte guardate guarda guarda che hit mi sta uccidendo un botto di volte c'è ninja ninja è un vero parla pure inglese c'è è è troppo forte non riesco più ai tasti perché stiamo viaggiando cioè dobbiamo andare nello stesso momento giù e invece tu vuoi ok guarda permeno se mi metto su whatsapp io posso la metto sulla nasa eh che ninja guarda che faccio lo screen che ninja aspetta la metto su whatsapp io posso la metto sulla nasa ninja puoi fare pubblicità mi ero scordato di levare il video no il mio montage è venuto male vabbè così il video dovrà ancora di più vi prometto che le prossime parti le taglio scusate mi ero dimenticato di tagliare queste parti ora c'è una kill bellissima una delle mie preferite eccola 250 ned kill non bellissima però le sto finendo quindi si deve mettere bella ma non bellissima quindi allora raga il video si conclude qua intanto vi saluto con il gameplay in sottofondo spero che vi sia piaciuto questo mio montage di tutte le mie cecchinate migliori che ho fatto qualcuno delle migliori mettete un like perché ci ho messo tanto a farle ho iniziato alle 5.20 e ora sono le 16 ci ho messo 40 minuti per farle quindi un like di supporto per favore scusatemi se avevo non avevo tagliato tipo 3 minuti però mi ero scordato sapete sono umano anche io quindi sbaglio anch'io un like ozzo di supporto un'iscrizione al canale tanto non vi cassa nulla e vi saluto saluto Giuseppe vi saluto saluto vabbè ciao raga vi saluto voi e saluto anche Giuseppe che penso che ci sta guardando che ci ha aiutato nel registrare questo video e il video originale che c'è sempre sul mio canale e se vi interessano armi materiali e zappole su saluto al mondo oppure aiuto in missioni di saluto al mondo oppure anche se volete che vi alleno su battle scrivetemi nella mia pagina instagram ve la metto in descrizione bella raga ciao